signori Pinocchio film del 2019 con Benigni non mi è dispiaciuto anche se mi ricordo quello diciamo l'originale di tanti tanti anni fa il trucco del bambino è stupendo veramente bello il film si è un 8 magari un 8 meno comunque fatto abbastanza bene la storia sempre quella con piccole variazioni e si può guardare una volta magari non prenderò il dvd sono onesto però è fatto bene un saluto a tutti se volete iscrivetevi al canale se volete lasciate un like ciao ciao